Ciao ragazzi sono contento di potervi annunciare le nuove lezioni in tutta Italia è stato bellissimo quest'anno insegnare a quasi 100 ragazzi sia a cartomaggia che a ipnosi ma per quest'anno nuovo, quest'anno scolastico nuovo abbiamo deciso di alzare l'assicella e fare dei propri veri master quest'anno ci saranno 4 novità, 3 buone e 1 cattiva la prima buona novità, buona notizia è che non parteciperete solo ed esclusivamente passivamente alle lezioni ma saranno 10 lezioni divise a coppie cosa significa? che la prima metà di ogni lezione sarò io che vi insegnerò, vi farò vedere giochi, tecniche e nella seconda parte della lezione sarete voi a esibirvi, a farmi vedere quello che avete assimilato nella prima parte in maniera tale che io possa correggervi attivamente la seconda buona notizia è che quest'anno non parlerò esclusivamente di carte di cartomagia ma come potete vedere sul tavolo ho messo gli oggetti che tratterò durante il corso che sono diciamo gli oggetti tipici che vengono utilizzati nel lavoro professionale ovviamente non sono gli unici ma vi permettono di avere delle buone basi lavorative quali sono questi oggetti? sono le corde, elastici, monete, palline di spugna e quelli che sono un po' i gimmick più tradizionali, classici del mentalismo in questo caso ho messo una lavagnetta e non sto a dire che cos'è questo non preoccupatevi comunque le carte rimarranno ma saranno un po' integrate agli altri oggetti tipici appunto del close up la terza buona notizia è che quest'anno non tratteremo l'ipnosi perché abbiamo deciso di dedicarle un tour apposito nel 2020 e quindi al posto dell'ipnosi faremo un coaching di alto perfezionamento in cosa consiste? praticamente tutti coloro che hanno un numero che sia di close up o da scena e vogliono perfezionarlo e portarlo a livello superiore rendono professionale possono portare appunto il numero e grazie alla mia supervisione possono implementare tutte quelle che sono le caratteristiche necessarie a un numero di magia per risultare efficace e professionale tipo l'attorialità, l'uso del corpo, l'uso del dialogo per chi vuole la comicità diciamo tutte le componenti fuori dal mero effetto magico che servono per creare un numero a tutto tondo di taglio professionale ovviamente senza nessuna limitazione cosa vuol dire? che se volete portare un numero di ipnosi lavoreremo anche sul numero di ipnosi ma non sarà esclusivamente dedicato a quello ma se vi ricordate ho detto che c'era anche una cattiva notizia una cattiva novità in luce di quest'anno scolastico nel quale abbiamo girato veramente tantissimo l'Italia questo si è tradotto in poco tempo da parte mia per studiare e preparare contenuti nuovi abbiamo deciso quest'anno proprio per portarvi contenuti nuovi di ridurre i giorni da 2 a settimana a 1 a settimana e ridurre le città da 7 a 5 quindi quest'anno faremo solo Torino, Milano, Padova, Firenze e Roma ovviamente viste queste limitazioni ci saranno meno posti disponibili quindi le selezioni saranno ancora più rigide e daremo la possibilità di partecipare a questo corso solo alle persone che si dimostreranno veramente interessate o a prendere la prestigiazione a livello professionale a farla diventare un lavoro o comunque appunto a prenderla seriamente quindi avete una settimana di tempo per mandare le vostre candidature scrivendo alla mail qui sotto quindi spero di vedervi l'anno prossimo e a presto